Partendo dal paese di Maton siamo i 1500 puntiamo verso i 2006 dell'Ensino a dopo ciao è uno scenario bellissimo una cosa veramente molto bella guardate in che ambiente stiamo salendo non pensavamo di trovare tutta questa neve fresca e sta venendo la collina per la discesa ma la salita è ancora lunga a dopo ciao siamo sbuccati qui a quota 2000 un paesaggio incredibile un sacco di neve di fronte noi abbiamo il Peace Beavering famosa sceltilistica ma oggi è un po' pericoloso lì è quasi 3.297 e adesso guardiamo i miei compagni che stanno salendo puntiamo ad in Sinor che è un 2006 ci sono un sacco anche di snowboard che si portano alla tavola e spalla si faranno delle grandi discese ecco svizzeri che scendono con la loro tecnica da discesa bene curve strette grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti